Salve a tutti ragazzi, qui è Andres e siamo in un nuovo video su Pokémon GO Oggi video speciale perché andremo a vedere tramite un sito, come potete già vedere Quanto tempo ci metterò ad arrivare al livello 40 Allora, il sito l'avevo già portato ancora tempo fa quando ero sulla Sacra Triade del Tubo Che adesso non c'è più Ed è trainerlevelspeed.de Al massimo sotto in descrizione vi lascio il link di codesto sito Ed ora andiamo ad applicarlo sul mio profilo Allora, noi vediamo che Andres e Pietro 90 Ho Fluffy come compagno perché devo farmi un secondo Ampharos Siamo a livello 38 esattamente con 815.354 punti esperienza Ovviamente del 38 dobbiamo arrivare a 3 milioni È veramente veramente dura In più, se scorriamo sotto La data di inizio è 08.07.2016 E il totale di punti esperienza è un numero esorbitante È veramente tanto tanta tanta esperienza abbiamo fatto durante questi tempi Questo anno anzi Ok, noi dobbiamo mettere gli XP totali Quindi Total XP Che è qua sotto Che nel mio caso è 1, 2, 8, 1, 5, 3, 5, 4 Ok E come vedete Ci dà esattamente Qua sopra Ok Il livello 38 Ci dà esattamente i punti Esperienza che abbiamo attualmente Questo deve combaciare con il nostro profilo Siamo a posto Perché la data di inizio è Ce l'abbiamo già L'abbiamo già messa prima L'ho già messa prima Start date 08.07.2016 Per arrivare al 40 Ci vogliono esattamente 7 mesi Quindi dovrò giocare ancora per un bel po' Per fino ad arrivare al livello 40 Che è veramente veramente dura 7 mesi sono veramente veramente tanti Però ragazzi Per chi è a un livello inferiore ai 30 È possibile anche calcolare Non solo tra quanto tempo si arriva al 40 Ma può calcolare anche tra quanto tempo arriverà al 30 Semplicemente facendo Cliccando con il tasto sinistro Sul 30 In questo caso io ce l'ho già C'è scritto you did it L'ho già fatto Ok Invece per il 40 no Qua vi da anche i vari livelli 1.25.30.35 36.37.38 39.40 Allora ragazzi Io vi consiglio innanzitutto Di provare questo bellissimo Sito Non ci sono problemi Va benissimo Me lo metto qua sotto l'iscrizione In un prossimo video Vi farò vedere tutta la mia squadra Tutte le mie medaglie Tutto il mio profilo Per oggi è tutto Spolliciate Commentate Condiviate il video E se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Qui Da Andres È tutto Ciao Ciao